Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo è previsto per martedì 13 luglio. L'ondata di caldo portata dall'anticicolone nordafricano raggiunge l'apice proprio nella giornata di martedì 13, mentre sul nord Italia in realtà rinfresca per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Quindi avremo rovesce temporale diffusi al nord, anche di forte intensità sulle Alpi e Prealpi, in zone pedemontane del Piemonte, Lombardia e Veneto, qualche temporale anche sulle regioni centrali, nell'interno delle regioni centrali e sulla Sardegna. Crollo delle temperature massime al nord, dove le massime appunto si porteranno ovunque sotto 30 gradi. Ancora caldo invece al centro-sud, dove le massime saranno intorno a 33-37 gradi, su Toscana, Umbria, Lazio e in zone interne della regione meridionale, punte di 38-40 gradi, quindi rivedremo di nuovo i 40 gradi sul Foggiano e sul Catanese.